E' mercoledì 25 ottobre, buongiorno e bentrovati con l'informazione di Telemolise, in regia questa mattina Nicola Passarelli, in apertura parliamo di politica. I consiglieri regionali di centrodestra hanno sottoscritto la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle, i rappresentanti invece di Ulivo 2.0 decideranno nelle prossime ore, mentre Vincenzo Niro ha preannunciato che non parteciperà al voto, dunque si prevede la bocciatura della mozione, a meno che il governatore non imiti il suo collega della Valle d'Aosta e si dimetta prima della discussione per ridare dignità alla Regione e ai molisani. Sentiamo il servizio di Giovanni Minicozzi. 6 righe sottoscritte dai consiglieri regionali di centrodestra Michele Iorio, Angela Fusco Perrella, Nicola Cavaliere e Giuseppe Sabusco che riportiamo testualmente, anche se con motivazioni più articolate e complesse che implicano il vulnus istituzionale dovuto ai comportamenti del Presidente della Regione Frattura, motivazioni che esporremo nel corso del dibattito in aula, firmiamo la mozione annunciata dal Movimento 5 Stelle scaturita dalla sentenza del Tribunale di Bari. La decisione è stata assunta dal centrodestra che da solo non avrebbe le firme necessarie che consentano di affrontare la discussione in Consiglio regionale. Fin qui la nota inviata alla stampa dai quattro consiglieri regionali che insieme a Patrizia Manzo e Antonio Federico raggiungono e superano il numero di 5 previsto dallo Statuto per presentare una mozione di sfiducia. Inoltre, con la possibile adesione dei quattro consiglieri di centrosinistra che da tempo hanno mollato Frattura, complessivamente potrebbero essere in dieci a votare la sfiducia e con la prevedibile astensione del Governatore, il risultato finale sarebbe di parità dieci a dieci, ma la mozione non passerebbe, tranne il caso, al momento imprevedibile, che almeno un consigliere di maggioranza decidesse di cambiare posizione. È da sottolineare però che i tre che fanno capo a Olivo 2.0, ovvero Michele Petraroia, Massimiliano Scarabbeo e Francesco Totaro, si incontreranno giovedì sera per decidere il da farsi e che Vincenzo Nino ha già fatto sapere che non parteciperà alla votazione ritenendo che Paolo Frattura andrebbe denunciato per aver trascinato nella vicenda giudiziaria la Regione senza neanche informare l'Aula di Palazzo Daimmo. Infatti, nella seduta del 21 dicembre 2015, la Giunta regionale con delibera numero 713 decideva di far costituire la Regione parte civile nel procedimento penale di Bari. Alla luce dell'esito finale del processo si è trattato sicuramente di una scelta scelerata anche per le conseguenze economiche e morali rimbalzate sul Consiglio regionale e sui molisani, una scelta che da sola però giustificherebbe un voto di sfiducia all'operato di Paolo Frattura. Al momento, invece, si può solo prevedere un'animate discussione in aula e la bocciatura della mozione a meno che, con uno scatto di orgoglio, il Governatore decidesse di anticipare tutti e dimettersi, imitando il suo collega della Valle d'Aosta che, per fatti similari ai suoi, si è dimesso il giorno prima della mozione di sfiducia. Se così fosse, sarebbe un miracolo che darebbe dignità a se stesso e al Molise intero. Ma di miracoli in questi cinque anni non ne abbiamo visto nemmeno uno. Aree interne e spopolamento, fuga per il lavoro. E' questo il titolo della puntata odierna di Millibar in onda questa sera alle ore 21. Alla luce di un rapporto realizzato dalla Caritas Diocesana di Trivento. Si parlerà del fenomeno di migrazione che ha portato migliaia di persone a spostarsi dalle aree interne verso le grandi città in cerca di lavoro. Oro ospiti in studio. Franco Spina, segretario regionale organizzativo della CGL, Cloridano Bellocchio, direttore del GAL Trigno Castellelce e l'opinionista Antonio D'Ambrosio. La replica di Millibar, venerdì alle ore 16, sempre su Telemolise. Il tartufo bianco, pregiato da sempre, è una delle eccellenze della tavola più desiderate ed apprezzate in questo avvio di stagione anche piuttosto raro a causa delle condizioni climatiche degli ultimi mesi. E fa notizia intanto un tartufo di quasi 470 grammi che è stato raccolto vicino a Campobasso. Ascoltiamo Giuseppe Carriera. La stagione estiva particolarmente torrida e siccitosa e il caldo che ha caratterizzato l'inizio di ottobre non facilitano la crescita del tartufo bianco pregiato che in questo avvio di stagione si presenta quindi ancora più raro e prezioso del solito e fa dunque notizia la cavatura di un pezzo da circa 470 grammi vicino a Campobasso. Sicuramente un settore agricolo compromesso o quantomeno condizionato da un'estate torrida ha condizionato anche quella che è l'inizio di questa raccolta al tartufo bianco. In Molise abbiamo comunque storicamente sempre dei tartufi importanti e per quantità e per qualità dal mese di novembre e tutto dicembre. Sicuramente un tartufo di 470 grammi trovato qui in Molise fa parlare. Vittorio Palumbo, presidente di Feder Tartufi Molise, nel presentare quello che al momento è un record stagionale per il Molise, è fiducioso sulla evoluzione della stagione. Siamo ancora in tempo, dice, per avere sulle tavole a Natale tartufo bianco pregiato in quantità e qualità ormai richieste dal mercato che riconosce nel prodotto molisano un indice d'eccellenza. Sicuramente il Molise è terra di tartufi, il tartufo rappresenta un volano economico molto importante per il Molise. I prezzi come ovvio non sono abbordabilissimi ma ne vale sicuramente la pena. Bene, per l'informazione è tutto, passiamo adesso alla rassegna stampa. E come di consueto in apertura della rassegna delle pagine locali diamo subito uno sguardo al giornale del Molise.it che questa mattina in apertura con un editoriale si occupa della mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle a carico di frattura dopo il caso Bari e sottoscritta a questo punto anche dai consiglieri regionali del centro-destra. Da frattura alla fratta arriva in aula la mozione di sfiducia, prove di mimetismo tra i consiglieri regionali. Questo è il titolo di apertura e sarà interessante vedere tra i consiglieri regionali, soprattutto dell'opposizione anche interna al centro-sinistra, chi prenderà posizione o meno verso questo delicatissimo tema. Andiamo a vedere le altre notizie in evidenza. Un'intervista di Michele Iorio data al mensile il bene comune. Dice Iorio, primo liberare il Molise da frattura e da questo centro-sinistra. Associazione centro-storico, bene la differenziata ma il servizio va corretto. Morta dopo il parto, autopsia sul corpo di Gioi, ci sono tre indagati. Vediamo le altre notizie. Dillo a Telemolise, dal primo novembre entra in funzione la redazione di Venafro, maltempo, pioggia e freddo su tutto il Molise e a Capracotta arriva la neve. Centro di accoglienza di San Giuliano, dimezzato il numero dei profughi, soddisfatto il senatore Ulisse di Giacomo. Passiamo alla prima pagina di primo piano. Molise, frana di Pietracatella, 25 milioni e tempi certi, questo è il titolo di apertura. Il presidente dell'ANAS ha illustrato la roadmap, un anno per le pratiche e 30 mesi per realizzare il nuovo tracciato. 322 i milioni in totale destinati alla manutenzione viaria. Armani Arriccia ha parlato anche dell'autostrada, bene ha fatto frattura a cancellarla, ha detto era una favoletta. Andiamo in taglio alto dove si parla di politica. Il centrodestra firma la sfiducia al governatore. I quattro consiglieri regionali eletti con Iorio hanno sottoscritto la mozione presentata dai 5 Stelle. Termoli, quindi la cronaca nigeriana morta dopo il parto eseguita. L'autopsia da Campobasso, differenziata, piovono critiche sul municipio. Restiamo sempre alla politica e su primo piano Molise, il turri in treno. Renzi impegnato a Parigi rinvia la tappa di Venafro. Da Isernia, ordine degli avvocati, rinnovato il consiglio. Nomi eccellenti tra i non eletti. Sempre da Isernia, gravato da obbligo di dimora, lavora in nero nel cantiere, 100 mila euro di multa e 13 persone. Nei guai da Campobasso, tentato furto in via Principe di Piemonte, fermati due giovani, la polizia, allertata dai residenti. Vediamo adesso su primo piano le notizie sportive. Serie di Campobasso, Pavarese a Castelfidardo, penalizzati dall'arbitro. Nel primo tempo c'era un'espulsione a nostro favore. Questa l'analisi del direttore sportivo Olimpia Agnonese. Di Meo ha trovato l'assetto, formazione spigliata con un riferimento offensivo Coppa Italia. Pomeriggio con il ritorno degli Ottavi si decide la griglia dei quarti. Da primo piano Molise andiamo a vedere il quotidiano del Molise. Frana, Fondovalle, Tappino, l'ANAS dice presto la variante. Anche il quotidiano apre su questa vicenda. Arriccia, gettate le basi per una soluzione che prevede un intervento di 25 milioni, studio di fattibilità. Entro l'anno andiamo in taglio alto sulla prima pagina del quotidiano del Molise. Da Campobasso contro i piromani arriva il nucleo investigativo. Nuove figure in forza ai vigili del fuoco. Ancora la cronaca. Tentano il colpo in un palazzo ma gli inquilini chiamano il 113. Da Termoli, morte in corsia, risposte affidate all'autopsia. Torniamo a centropagina e andiamo a guardare una notizia che si riferisce alla politica. Destinazione Italia. Matteo Renzi vola a Parigi. Rinviata la tappa di Venafro. Neuromed si espande, scrive il quotidiano. Venerdì apre la nuova piattaforma ambulatoriale. Interverrà il presidente del Parlamento europeo. Campobasso ancora quindi politica. D'Alema apre domani la convention fondamenta. Il leader del movimento democratico e progressista torna nel capoluogo regionale per la tre giorni di incontri. Ancora politica dalla regione. Anche il centrodestra firma la sfiducia a frattura. Il colosso Ayer punta il Molise pronti ad esportare eccellenze, dicono. Da Campobasso lavori in mobilità. La protesta si riaccende. Vediamo adesso le notizie sportive. Agibilità dello stadio si attende l'ok della commissione. Lupi Pavarese esalta il tifo e dice eccezionale. Club e istituzioni c'è una schiarita. In allestimento due pullman per seguire il rosso-blu a Recanati. Serie D. Il difensore Rullo rilancia l'Agnone. Tre punti fondamentali. E in chiusura della rassegna dedicata alle pagine locali diamo uno sguardo alla home page di Futuro Molise. Obiettivo unità. Sondaggio SVG. Il 75% dell'elettorato del PD vuole la coalizione. La cronaca cinquantenne accusa malore e muore in strada dramma a Montenero di Bisaccia. Molise protagonista al Mirabilia Food and Drink di Verona. Tour elettorale destinazione Italia salta la tappa di Matteo Renzi a Venafro. E dopo i quotidiani locali passiamo adesso alle pagine nazionali. Il Corriere della Sera. Stadi basta antisemitismo. Questo è il titolo di apertura su un tema che vedremo, ritroveremo anche sugli altri giornali. Indignazione dopo lo sfregio ad Anna Frank. Lettura del diario prima delle partite. Mattarella. Il Presidente della Repubblica definisce un atto disumano quello accaduto a Roma. Lotitosi in sinagoga. Il rabbino di segni dice non siamo una lavatrice. Restiamo sul Corriere della Sera con la politica, legge elettorale, caos al Senato sulla fiducia. Il Movimento Democratico e Progressista va al Quirinale e dice usciamo dalla maggioranza. Poi una fotonotizia sul Corriere della Sera, davvero terribile. Si riferisce all'isola di Roatan in Honduras, l'isola circondata dalla spazzatura e mostra posate bottiglie e contenitori vari di plastica intrappolati tra le alghe intorno appunto all'isola di Roatan in Honduras. E dal Corriere andiamo alla prima pagina di Repubblica. La politica in apertura. Rosatellum. Altra fiducia. Lo strappo di MDP. Via dalla maggioranza. Mossa del governo. Caos al Senato. I rappresentanti del Movimento 5 Stelle si bendano sul referendum. Il Veneto stoppa Zaia sullo statuto speciale. Restiamo su Repubblica. Il diario di Anna Frank. Prima delle partite. Ma troppi i patti tra calcio e ultra antisemiti. Scrive Repubblica che ospita questa mattina anche un'intervista a Di Maio del Movimento 5 Stelle che dice Mattarella non sia complice di questa riforma. Poi si parla di Previdenza. L'Istat cresce l'aspettativa di vita. Dal 2019 in pensione ha 67 anni. I sindacati in rivolta e dicono è una follia. E da Repubblica andiamo alla stampa al quotidiano di Torino. Da Tunisi all'Italia. La grande fuga degli ex detenuti. Questo è il titolo di apertura. È un reportage dalle spiagge dove si parte con 400 euro. l'indulto ha liberato 2700 persone. Lo scafista dice il governo chiude un occhio e chiederà più soldi a voi per fermarli. Poi anche sulla stampa si parla della vicenda Anna Frank. Negli stadi il diario di Anna Frank. Un tredicenne fra gli autori dell'oltraggio razzista. La Lazio in sinagoga. Ma è gelo. Restiamo sulla stampa con il post referendum. Zaia dice. Modello Gandhi per il Veneto. Intervista al presidente leghista dopo il referendum. Accordo con Roma prima del voto. Non facciano i furbi. Dice Zaia. E dalla prima pagina della stampa vediamo l'apertura che fa il Fatto Quotidiano. Il giornale diretto da Marco Travaglio scrive questa mattina. Il fascistellum del bugiardo. 1923-2017. Anche in Senato il governo impone la fiducia sul rosatellum come Mussolini. Sulla legge acerbo il fascistellum con un abile fotomontaggio che propone il Fatto Quotidiano. E' in questo caso Matteo Renzi camuffato da Duce. Renzi che dice testuali queste due frasi che il Fatto riporta. I deputati devono essere scelti tutti direttamente. Nessuno escluso dai cittadini. E questo era Matteo Renzi al programma per le primarie DEM del 2012. Poi aggiunge una legge elettorale che restituisca ai cittadini il sacrosanto diritto di scegliere a chi affidare i propri sogni, le proprie speranze e progetti. Ed è sempre Matteo Renzi nella mozione congressuale per le primarie DEM del 2013. Evidentemente, come mostra il Fatto Quotidiano, Renzi ha fatto una capriola e ha cambiato idea. Restiamo sempre sul Fatto così le aziende telefoniche ci sfilano 2 miliardi di euro. Si parla di questo trucchetto messo in campo dalle aziende telefoniche con la fatturazione e quindi la bolletta ogni 28 giorni piena di costi nascosti che vengono pagati dagli utenti. Andiamo al Quotidiano Romano, il messaggero. Pensione a 67 anni, ecco la platea, questo è il titolo di apertura. L'Istat fissa dal 2019 l'aumento dell'età previdenziale per l'allungamento dell'aspettativa di vita. In 80 mila dovranno rinviare l'uscita, l'Inps dice fermare gli scatti, costerebbe 141 miliardi dal 2040. Restiamo sul messaggero, il calcio con la maglia di Anna Frank, l'Otito in sinagoga, gelo della comunità ebraica. Referendum, il governo frena Zaia su queste richieste, non si può trattare, no al diktat del Veneto, ok alla Lombardia, gentilone, apre, vediamo a quali condizioni. E dopo il messaggero andiamo sulla prima pagina di Libero, il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Non è più tempo per Magnoni, questo il titolo di apertura, i mantenuti romani pretendono i nostri soldi. La sinistra schiera i suoi governatori delle regioni a statuto speciale contro Lombardia e Veneto. L'autonomia non è per tutti, non potete tenervi le tasse, dicono. Ma Zaia e Maroni rilanciano federalismo fiscale e libertà su 23 materie. propone Libero invece a centropagina una fotonotizia con questo titolo Battisti è comunista, perciò resta Libero tutto come avevamo previsto e si vede questo bandito criminale in fuga da decenni nell'atto di ballare allegramente nel suo soggiorno brasiliano. E dopo Libero andiamo all'informazione economica con il sole 24 ore. In pensione, 5 mesi più tardi, questo è il titolo di apertura, l'Istat aumenta l'aspettativa di vita. La vecchiaia sale a 67 anni. L'adeguamento previdenziale, scrive il sole 24 ore, scatterà dal 2019. I sindacati contrari chiedono il blocco degli automatismi. Poi si ritorna sul sole sulla vicenda Banca Italia, scrivono, si rafforza Visco. Entro domani la lettera di Gentiloni a Palazzo Coc. Andiamo sulla prima pagina della verità. Le tasse del Nord sono del Nord, così titola in apertura questa mattina il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, che poi aggiunge, basta, balle, rispettate la Costituzione. Dire come fa il PD che Veneto e Lombardia non possono trattenere i loro soldi è una bugia. Nella carta, infatti, sono previsti i trasferimenti dallo Stato centrale alle regioni per le varie competenze. Ed è lì che si gioca la vera partita. La verità poi ha la cronaca in prima pagina. Anziana uccisa in casa da tre marocchini. I giovani perfettamente integrati, lo scrive la verità, ma tra virgolette, le hanno rubato 30 euro e due collane. Poi sono andati fuori a fare Baldoria. E dalla verità andiamo all'avvenire il quotidiano della conferenza episcopale italiana, così titola questa mattina in apertura. Parità da realizzare nel 2016 chiusi 204 istituti per invertire la rotta, proposti costo standard, buono e misure fiscali. Di cosa si parla? La scuola cattolica, presente il suo diciannovesimo rapporto galantino, lo Stato investa sulle paritarie. Il ministro Fedeli dice un impegno a fare di più. Anche sull'avvenire si tratta la vicenda degli ultralaziali, la memoria che cura. Il diario di Anna Frank sarà letto in campo, scrive il quotidiano dei Vescovi. Poi si parla dell'età pensionabile che aumenta, aumenta l'età media in pensione. Più tardi l'aspettativa di vita arriva a 82,8 anni. La fine del lavoro salirà a 67. E dopo l'avvenire andiamo al quotidiano campano il mattino. Si vive di più pensione a 67 anni. L'Istat conferma l'aumento dell'aspettativa di vita. 80 mila rinvieranno. L'uscita, l'automatismo per l'assegno di vecchiaia scatterà dal 2019. Ma in Campania si muore ancora, scrive il mattino, un anno e mezzo prima. Restiamo sul quotidiano campano. Il libro di Anna Frank, letto negli stadi contro l'antisemitismo. Mattarella dice è una vergogna. Lotito invece, il presidente della Lazio, va in sinagoga. E dal mattino passiamo al quotidiano comunista, il manifesto. dissennato, questo il titolo di apertura, riferito alla nuova legge elettorale. Salvato dalla rottamazione renziana, ieri il Senato è stato cancellato dalla scelta dissennata del governo di mettere la camicia di forza alla legge elettorale con 5 fiducia. proteste della sinistra e dei 5 stelle, dentro e fuori dall'aula, scrive il manifesto che si occupa anch'esso questa mattina della vicenda pensione, in pensione a 67 anni, unici in Europa. E poi chiosa il manifesto successi di governo, evidentemente con una sottile ironia. e dal quotidiano comunista andiamo a quello della destra, il secolo d'Italia, Italia umiliata, questo è il titolo di apertura, sotto una foto del criminale Cesare Battisti, bellamente in vacanza in Brasile, dove resterà. Le notizie in primo piano, il sud non abbia paura di me, Salvini parla ai meridionali. La Boschi contro Di Maio, scrive il secolo, Gigino evita il confronto. E dopo il secolo passiamo all'altro quotidiano della capitale, il tempo. E adesso puniteli tutti, sdegno e pugno duro con i naziali, per gli adesivi antisemiti, scrive il tempo. Ma le altre tifoserie che fanno altrettanto non pagano mai. E si vede un muro della capitale con la scritta Laziale, ebreo, accompagnato da un editoriale di Marco Gorra. Sono ebreo, dice, sono Laziale e avrei qualcosa da dire. Il tempo poi ospita un approfondimento sulla vicenda Battisti, vergogna, Battisti è libero, la giustizia brasiliana, scarcere il terrorista, estradizione più lontana, si chiede il quotidiano della capitale. E dal tempo andiamo a vedere adesso l'informazione sportiva con la Gazzetta dello Sport, che chiaramente non può non occuparsi dell'ennesima vittoria dell'Inter. Sempre più Inter, questo è il titolo di apertura, batte la Samp per 3 a 2 e scavalca il Napoli. Nerazzurri per una notte in testa alla classifica. Poi in taglio alto anche la Gazzetta dello Sport si occupa della vicenda relativa ai tifosi laziali, a una parte minoritaria dei tifosi laziali, la vergogna antisemita, responsabili identificati, il calcio legge Anna Frank. Bene, con le notizie sportive si chiude la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è alle 14 con il nostro telegiornale. A voi tutti l'augurio di una serena giornata. A voi tutti l'augurio di una serena giornata.